L'aumento dei contagi anche tra gli addetti ai servizi ambientali rischia di mettere in crisi anche la raccolta dei rifiuti. Alia, che si occupa dell'area di Firenze, Prato e Pistoia, ha già avvertito di criticità possibili per il porta a porta e lo spazzamento strade nei comuni di Grevenchianti, Impruneta e San Casciano-Valdipesa. Stiamo ovviamente cercando di minimizzare l'impatto con interventi suppletivi, ovviamente però in questi giorni raccomandiamo attenzione all'utenza nell'esposizione dei contenitori perché purtroppo ci potrebbero essere dei rallentamenti del servizio imprevisti. I nostri servizi sono attivi, sono anche questi abbastanza al limite e al collasso, pertanto stiamo cercando di trovare soluzioni operative che cerchino anche in questo caso di minimizzare l'impatto verso gli utenti cittadini. E per far fronte all'aumento dei contagi tra i cittadini, che sta creando importanti criticità nella catena di approvvigionamento dei materiali, per garantire a tutti gli utenti in quarantena la puntuale consegna dei sacchi per il corretto smaltimento dei rifiuti, Alia consegnerà temporaneamente sacchi di colore nero o grigio con la stessa funzione dei sacchi rossi abitualmente distribuiti. Insieme alla dotazione dei sacchi neri o grigi saranno consegnate etichette adesive riportanti la dicitura rifiuti Covid da attaccare direttamente sul sacco prima dell'esposizione, in modo ben visibile. I rifiuti di chi è in isolamento per Covid non devono infatti essere conferiti al normale sistema di raccolta, ma secondo quanto stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle vigenti ordinanze regionali, gestiti tramite l'apposito servizio.